Oh, scusa, ma... ...e... 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 ...in locale dell'intera storia nazionale... ...non dobbiamo oltreppo concentrarci sull'anomalia di Perti Soro... ...no, no... ...no, no, no... Ciao, tutti! Ti posso preciare? Ah, va bene, sei recorriando! Il Niki Vendola, Presidente della Regione Puglia e Presidente dell'Accidentità, Ecologia e Libertà. Caro amico Niki, vogliamo rispondere la tua presenza oggi con noi con un forte momento. Grazie. Perché fa molto tempo che non vediamo l'Italia come un espai di referenza e di libertà. I avui l'Italia, e il Niki è un buon esempio, e la CEL è un buon esempio, è un espai in cui ci ammiriamo e vediamo in definitiva un gioco per l'esperanza. Vi ringrazio molto per l'accoglienza, per l'affetto e l'estima che avete manifestato. Vi ringrazio perché siamo impegnati in una comune ricerca. E penso che ci siamo intesi sulle premesse. E vorrei dire che ricostruzione dell'Europa e ricostruzione della sinistra forse possono diventare la stessa cosa, lo stesso terreno. E quei due che l'altro giorno hanno riso di Berlusconi, nel siparietto, no, la Merkel e Sarkozy, non stiamo parlando di De Gaulle e di Helmut Kohl, per dire di grandi statistiche dall'altra parte. Stiamo parlando di uno come Sarkozy, che non ha esitato a invocare la caccia agli zingari. Pensate nel mio paese. Ci parla della sicurezza a proposito dei migranti, no? Sono 16.000 i migranti crepanti nel mare mediterraneo. Il problema della sicurezza è dei migranti, non è il nostro. Siamo noi, la loro in sicurezza. Si pensa, a sinistra, che dopo i giorni feriali, in cui c'è l'economia, poi c'è il giorno di festa, in cui finalmente ci riposiamo con l'ecologia. L'ecologia è una specie di convegno pacificatore, dopo i sei duri giorni di devastazione della biodiversità e degli ecosistemi. Il compito della sinistra è quello di mettersi in cammino, rischiando tutto quello che si rischia, soprattutto quando si attraversa il mare, per andare a fondare non una miniatura del nostro passato, ma una nuova città. Grazie.